Si torna a correre all'aria aperta dopo lo stop imposto dalla pandemia con una giornata di sport e benessere. La città di Salerno lascia spazio alla corsa e alla camminata con la settima edizione di Salerno Corre Competitiva Fidal sui 10 chilometri e non competitiva e la seconda edizione del Fit Walking Day non competitivo. L'appuntamento è per domenica 15 maggio alle 8.30 con partenze e arrivo da Piazza della Libertà. Tante le iniziative in programma come ha dichiarato ai nostri microfoni Mauro Russo, istruttore Fit Walking Atletica Salerno. Finalmente dopo qualche anno di pandemia che ci ha visto non poter organizzare la nostra manifestazione grazie all'Atletica Salerno che anche quest'anno con innumerevoli sforzi vista la pandemia e la crisi economica che ci ha colpito siamo riusciti con grande sforzo e grande intendo da parte di tutti quanti noi del Consiglio Direttivo con a capo il Presidente Ruggero Gatto a riportare a Salerno il 14 e il 15 maggio la settima edizione della Salerno Corre gara bodistica di 10 chilometri e il secondo Fit Walking Day gara bodistica di 10 chilometri che quest'anno avremo il villaggio il sabato pomeriggio 14 maggio alle ore 16 in Piazza della Libertà e avremo la partenza della manifestazione la domenica mattina sempre da Piazza della Libertà alle ore 8 e 30 per le strade della città. Il percorso è un percorso molto veloce, è un percorso pianeggiante che arriverà a Mercatello, a Mercatello si svolterà per la strada interna e riusciremo all'altezza del Val Marconi per ritornare tutti insieme di nuovo in Piazza della Libertà. Sarà una giornata di sport, di salute e benessere, invito tutti a partecipare, le iscrizioni si possono fare e vedere istruzioni sul nostro portale www.salernocorre.it oppure sulle nostre pagine Facebook ASD Atletica Salerno oppure Fit Walking Salerno. Per qualsiasi informazione o qualsiasi vostra difficoltà nel poter fare le iscrizioni siamo a vostra competizione, ci sono anche i nostri numeri telefonici a cui potete rivolgervi. Vi aspettiamo tutti per una giornata di sport e di ritornare un po' tutti a quella normalità che tutti ci stiamo chiedendo da oltre due anni. Una giornata da godere all'aria aperta, si parte da uno scenario particolare, da Piazza della Libertà, si percorrerà un po' tutta la città di Salerno. Ci sarà un dispositivo di traffico che permetterà a tutti di muoversi in libertà e in sicurezza? Sicuramente, di questo dobbiamo ringraziare anche la Giunta Comunale con il Sindaco che hanno voluto fortemente e sarà il primo evento che si svolgerà dalla Piazza della Libertà, piazza inaugurata da poco, perciò saremo noi a fare il taglio del nastro di un evento sportivo. Il dispositivo traffico ci sarà, credo dalle 8 della mattina fino alle ore 10, Salerno sarà chiuso al traffico, perciò chiunque vuole venire a correre o camminare potrà tranquillamente farlo.